Continua a tenere banco in casa Napoli la situazione legata a Giovanni Di Lorenzo. Nella giornata di ieri, prima del match tra Croazia e Italia, c'è stato un lungo incontro tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l'agente del calciatore Mario Giuffredi a Milano. Nel summit sono state ribadite le rispettive posizioni che già si conoscono bene. Il Napoli ritiene incedibile il suo capitano e non aprirà la cessione verso nessun club. L'agente Mario Giuffredi dal canto suo ha comunicato che non cambiano le volontà di Di Lorenzo con il numero 22 azzurro pronto a lasciare il club partenopeo. Il Napoli vuole risolvere le incomprensioni e trattenerlo, ma con la gioia e non controvoia. Una delle prerogative del tecnico Antonio Conte è proprio quella di avere uno spogliatoio privo di scontenti. Una presa di posizione apprezzata da Giuffredi e dallo stesso giocatore filtra cauto ottimismo e si va verso un clima di maggiore serenità nei prossimi dialoghi. De Laurentiis e Giuffredi si rivedranno ancora in questi giorni. Un bis che autorizza ad avvalorare la fiducia trapelata ieri.